Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nella tumultuosa separazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi, un'evoluzione che sembra stia trasformando la fine del loro matrimonio in uno spettacolo pubblico attraverso documentari, autobiografie e interviste televisive. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l'ex capitano della Roma sembra adottare una posizione di riservo, lasciando che siano le dichiarazioni dei presunti amanti di Ilari a parlare per sé. Tra questi, spicca l'ex personal trainer di Blasi, Cristiano Lovino, il quale ha reso pubblica una «frequentazione intima» con la conduttrice, tanto che Totti lo ha citato come testimone a suo favore. Ma sembra che le rivelazioni non si fermino qui. Sempre secondo le fonti di Oggi, un altro presunto corteggiatore della Blasi, un giovane imprenditore napoletano, potrebbe presto rompere il silenzio. Pare che quest'uomo abbia alloggiato nello stesso hotel di Ilari a Milano durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta proprio dalla Blasi. Se queste voci dovessero essere confermate, si tratterebbe di un ulteriore elemento che potrebbe influenzare la causa di separazione, che si preannuncia già come un contendere di svariati milioni di euro. Ciò che è certo, conclude Oggi, è che i vertici del Biscione, probabilmente insofferenti alla crescente esposizione mediatica dell'ex signora Totti, hanno deciso di revocarle la conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, affidandola a Vladimir Luxuria. Un segnale che lascia intravedere le conseguenze di questa vicenda anche sul fronte professionale della conduttrice.